Dopo le polemiche giunte anche alla ribalta nazionale con l'intervento delle telecamere di report, arriva la soluzione per l'accesso al pronto soccorso della città ospedaliera Moscati. Si aprirà un varco diretto e quindi più rapido e sicuro all'uscita del cavalcavia di via Don Giovanni Festa, ex Bonatti, che da strada a scorrimento veloce è stata declassata a strada cittadina. L'uscita dei mezzi dal pronto soccorso resterà invece quella attuale. Il costo dei lavori interni all'area ospedaliera saranno a carico dell'azienda Moscati. Queste le indicazioni definite durante l'incontro a palazzo di città tra comune e azienda ospedaliera, quando ha preso parte il sindaco Galasso, il direttore generale dell'azienda ospedaliera Rosato e i rispettivi tecnici. Un progetto pensato da tempo e che a breve sarà attuato, afferma l'assessore del comune di Avellino, Livia Petitto. C'è stato un vertice in comune in cui abbiamo definito un cronoprogramma con l'azienda ospedaliera per risolvere in via definitiva la problematica dell'accesso al pronto soccorso, anche perché stanno andando avanti, anche se con molti problemi, lavori di riqualificazione della strada a Bonatti. Quindi siamo pronti anche per prevedere l'accesso diretto al pronto soccorso, quindi evitando i disagi non solo agli utenti dello stesso, ma anche a tutti i residenti della zona. Che tempi si pervedono per la realizzazione? In questi giorni abbiamo definito appunto quali dovevano essere i tempi. Adesso l'azienda produrrà un progetto per iniziare quanto prima i lavori e quindi limitare i disagi per tutti gli utenti dell'ospedale. Una questione che ha avuto anche rilievo nazionale con l'intervento delle telecamere di report. Sì, ma il problema è che questa programmazione la stiamo portando avanti da diverso tempo. Solo adesso che con i lavori siamo arrivati a buon punto, siamo a buon punto per almeno l'ambito 1, che è quello della città ospedaliera, si è paventata la necessità di chiudere il discorso, anche perché l'avevamo avviato tempo fa, per quanto riguarda l'accesso al pronto soccorso e la sistemazione di tutta la viabilità a contorno della città ospedaliera. Grazie a tutti.